E adesso andrà in onda Sesame Street su HBO Salve ragazzi, com'è andata a scuola? In verità mamma è stata una giornata strana Abbiamo dovuto scrivere una lista con 5 motivi per cui il preside Shepard è fico da far firmare ai genitori Cosa? Questa mi sembra un'assurdità Una volta l'ho visto pisciare in un Vespasiano con le mani sui fianchi È veramente un capo Perché mai il preside vi ha fatto fare una cosa simile? Non lo so, non sta passando un gran momento È nel mezzo di un brutto divorzio Ah sì? E tu come fai a saperlo? Beh in realtà lui ne parla apertamente Buongiorno ragazzi, oggi alle 15.30 il liceo James Woods ospiterà una corsa a Campestre Proprio dove Lorraine ha minacciato di portarmi via ai miei figli e l'ha detto correndo Ed ecco il trivia quiz del martedì Ho una voce stridula? Perché pare che a qualcuno sembri stridula Ah, finalmente un po' di calma e tranquillità Così posso mettermi sotto a scrivere un po' Ehi Bonnie! Che c'è? Senti questa, di It's All Been A Pack Of Lies Cosa? Perché? Dillo e basta! Devi dire It's All Been A Pack Of Lies It's All Been A Pack Of Lies Oh, sei stato proprio bravo! Grazie piccola Ehi, sai di che cosa parla quella canzone? Di Phil Collins che guarda uno che guarda un altro a negare E poi la sera dopo dà a quello che guardava un posto in prima fila al suo concerto In modo da poter cantare quella canzone a lui per farlo arrestare Davvero? Perché non l'ha aiutato lui quello che stava negando? Non lo so, penso che ci fosse di mezzo un ponte Cioè lo vedeva ma non l'avrebbe mai raggiunto in tempo Ma ha fatto passare un giorno intero, perché non ha chiamato la polizia? Stava scrivendo la canzone Aspetta, il fatto che si sia limitato a guardare non lo rende un po' colpevole? Volendo potremmo far venire Phil Collins e interrogarlo Mi pare che questa storia sia una bufala Aspetta, controllo su Snoops No, non è mai successo Ciao, che fai? Mi ero seduto per cercare di lavorare sul sequel di Il Vecchio e il Mare Sei autorizzato a farlo? Non riesco a concludere niente, qui c'è un baccano infernale Già, anche Hemingway se ne lamentava spesso Questa guerra civile spagnola fa un baccano infernale Come faccio a concludere qualcosa? So che può sembrare stupido, ma Una volta sognavo di avere una casa tutta mia Una casa vicina a un lago Un oasi dove poter scrivere pagando le spese con l'affitto delle stanze Tipo un B&B, sarebbe divertente Come? Ma di che cosa parli? Parlo di aprire un bed and breakfast insieme io e te Dici sul serio, sarebbe grandioso Lo sarebbe come? Bene, allora proviamoci Non sarà peggio di quando ero nei guardiani della notte Ragazzi, ripetiamo di nuovo il giuramento? Per i guardiani Per i guardiani Per i guardiani Ciao Brian Sono la trama noiosa di un grassone che guarda una ragazza E io sono Ball Bene bene, guardate chi c'è Meg Griffin Dai, lasciatemi in pace ragazzi Rilassati, è il giorno di riposo del bullismo Grazie al cielo Molto divertente Avete messo l'arca dell'alleanza qui dentro Meg è così stupida Non potrà mai arrivare alla gloria dell'amore divino Studenti, professori e personale del James Woods Sapete tirare giù il sedile posteriore di una Highlander? So che posso farci un letto là dentro Ma non so come fare Oh mio Dio, Preside Shepard Che l'è successo? Ho appena ascoltato per sbaglio due ore di sesso Tra mia moglie e il tizio che installa gli allarmi E perché non ha riattaccato? Perché mi manca tanto il suono della sua voce Mi manca tanto Preside Shepard C'è sua moglie al telefono Sta dicendo Ah, ah, ah Sì, più forte Ancora non riesco a credere quanto sia perfetto questo posto Lo so, e diventerà un amore di bed and breakfast Lo scaldabagno funziona, signor Griffin Non abbiamo scaldabagno Ma non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto in cantina Oh, e per favore Gratti via la F e la C dai rubinetti Così la gente non saprà cosa succede Voglio che i primi quattro minuti di ogni doccia Creino loro rabbia e confusione Benvenuti membri della nostra comunità Diamo inizio a questa riunione straordinaria Del consiglio d'istituto sul tracollo del Preside Shepard So che molti dei nostri studenti sono in mestie Tanto traumatizzati dagli eventi di quest'ultima settimana E noi tutti prendiamo i loro problemi molto seriamente Lois, ho finito con la bomba No, io non la voglio Sì, ma io ho finito Peter La prendo io Grazie al suo comportamento Il Preside Shepard avrà un congedo retribuito a tempo indeterminato Avrebbe dovuto sostituirlo il Vice Preside McGuire Purtroppo c'è giunta la notizia Che è stato trovato morto nella sua auto Quindi cerchiamo un genitore volontario Che possa fungere da Preside Interim Finché non sarà trovato un sostituto definitivo Lois, potrei farlo io Ho sempre sognato un lavoro dove poter spargere in giro la forfora Cosa? Scherzi? Io non voglio che mio padre faccia il Preside È una cosa imbarazzante Scusa Peter, ma non credo tu sia capace di dirigere una scuola Ma che cacchio dici? Sono un leader nato Ecco perché sono così bravo nel dirigere Simon Says Simon dice Lascia questo duo Ecco, io non lo so Sapete una cosa? Vi state sbagliando E ora io ve lo dimostrerò Ripeto, nessun volontario? Sì, sarò io il nuovo Preside Fantastico Perché non viene qui e si presenta? Va bene Cheerleaders del James Woods Datemi una mano Check him out Check, check him out My name is Peter Check That ain't no lie Check I go pop, pop, fizz, fizz Oh, how sweet it is Check, check Tenga, ho finito con la gomma No, io non la voglio Sì, ma io ho finito Mamma, perché è stato buttato il Listering nella spazzatura? Tuo padre ha detto che ora che è il Preside del Liceo non ne ha più bisogno Oh no, ti prego, dimmi che non lo farà davvero Ora i bulli mi prenderanno di mira ancora di più Salve Breakfast Club Come Preside voglio iniziare ogni giornata con un riferimento al secolo scorso Papo, io non voglio che tu lo faccia Troppo tardi, ho già iniziato ad allenarmi a battere i 5 con gli studenti in modo goffo e scoordinato Chris, ti dispiace? Sì, due dita e contatto con il palmo del lato della mano, perfetto! Bene, devo essere a lavoro per le 7 e 40, non so perché mai l'orario d'inizio del liceo Ci vediamo per il pranzo anticipato alle 10 e 40 Ti capisco bene, Meg Zitta! Sta zitta tu! Mondo cane, guardaci, stiamo gestendo un B&B Sì, e finora tutti gli ospiti sembrano contenti Salve, lasciamo la stanza, la metta sulla carta Ma che strano, è la quinta coppia che se ne va dopo un'ora soltanto Noi vorremmo una stanza, per favore No, un momento, ma lei non è appena stata qui con un altro uomo Oh... Sì, c'è un problema, le sole persone che vengono lo fanno per andare con le prostitute Cosa? Non ha senso! Allora perché firmano il libro degli ospiti e scrivono bizzarrie tipo Crystal, Grandes, Copa... Oh... Accidenti, è spaventoso! Come ho fatto a non capirlo prima? Cioè è anche più ovvio di quando George Takei ha esternato il suo essere Ehi, ciao George, come va? Sai, io sono eterosessuale Sì, mi piacciono tanto le vagine Ci vediamo Io sono eterosessuale! Buongiorno ragazzi, sono il vostro preside ad Interim, Peter Griffin E per dimostrarvi che sono divertente, ora farò l'Ice Bucket Challenge Con tre anni di ritardo, ma ancora in tempo per un preside Anche se non ha lo stesso senso di quando era di moda Comodi, tanto quella persona probabilmente è già morta Ma hey, ho qualcosa di più divertente Perché non facciamo tutti il lip dub di una canzone famosa con una bella coreografia? Buongiorno Signore, lui è il mio socio Brian e le p***e Brian Ma che cosa vuol dire? Questa Brian viene chiamata diversificazione Visto che gli ospiti insistono nel portare prostitute nel nostro B&B Perché non fornirle direttamente noi? Cosa? Noi non diventeremo papponi Ne sei sicuro? Sì, sicuro La risposta è no Non cercare di retirmi col miraggio dei soldi Perché non c'è alcuna possibilità che io ti dica Beh, possiamo fare una prova e vedere come va Ehi, che ci fate l'impalate? Andate a lavorare Vi dico una cosa Quel cane si fa per suonare molto facilmente E ora vediamo che succede nel nostro vecchio liceo Ehi ragazzi, ragazzi Avete sentito prima Borat fare degli annunci all'altoparlante? Beh, quello ero io Cosa? Non ci posso credere Il taco Tuesday è very nice Mettilo giù Ridanni il mio pranzo Chissà che c'è qui dentro Del succo d'uva in una bustina ermetica? Sì, mi serve per fare il mio capri sans Ehi, stupido Che cacchio stai facendo? Questa è mia figlia Sì? E allora che cosa vuoi fare? Cosa voglio fare, eh? Ti caccio i denti in gola E te li faccio uscire dall'***o, bastardo Pensi che sia divertente Gettare succo d'uva sul pavimento Rende le suole appiccicose E poi noi sentiremmo quel cioffete Cioffete Tutto il giorno Non andrà così Mettiti in ginocchio e lettalo Cosa? Stai dicendo sul serio? Sul serio Sono il preside Oh mio dio Ciao a tutti